Le evidenze scientifiche ci raccontano ormai da tempo quanto il gioco rappresenta per i bambini una fonte inesauribile di apprendimento e che consenta l'acquisizione di nuove abilità e di nuove competenze. I materiali ludici quindi necessariamente devono far parte dei nostri setting riabilitativi. Da adesso i piccoli utenti potranno contare anche su nuovi giochi donati dal gruppo Frates Donatori Sangue e Rigutino. La donazione è destinata ai professionisti della riabilitazione, del Dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie della riabilitazione e della prevenzione. Sono materiali che saranno destinati ai percorsi riabilitativi dei nostri piccoli utenti con disturbi del naro sviluppo in fascia d'età compresa tra i 2 e i 6 anni. La vera sfida dei professionisti della riabilitazione è proprio quella di individuare sempre dei nuovi materiali per arricchire i nostri percorsi e i nostri setting. Materiali che ovviamente sono stati scelti in maniera molto accurata e molto precisa, poiché ogni gioco che è stato individuato è finalizzato al raggiungimento di uno specifico obiettivo o più obiettivi riabilitativi. Una donazione dal valore di circa 1000 euro grazie al supporto della Cassa di Risparmio di Firenze ed ovviamente delle donatrici e dei donatori. Tutto ciò è possibile grazie alle straordinarie persone, donne e maschi che sono i nostri donatori. Senza di loro non potremmo fare nulla.